Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati nel nostro canale. In questo video parleremo di uno strumento fondamentale per l'analisi dei risultati delle ottimizzazioni. Si tratta della Quant Analyzer, un software sviluppato dalla strategy quant che, come vedrete, vi aiuterà moltissimo nell'analisi dei backtest delle vostre strategie di trading. Ancora un attimo di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Bene, ci tengo innanzitutto a far presente che noi non percepiamo alcun compenso da parte della società sviluppatrice per questo video e almeno per il momento non ci sono programmi di affiliazione. Abbiamo realizzato questo video in quanto la Quant Analyzer è uno strumento veramente ottimo per l'analisi delle vostre strategie e riteniamo che ogni trader sistematico debba conoscerlo ed utilizzarlo. La Quant Analyzer è un programma a pagamento di cui è scaricabile una versione gratuita senza limiti di tempo. L'unica limitazione riguarda alcune funzionalità che sono bloccate o limitate. In ogni caso non preoccupatevi perché noi stessi utilizziamo la versione gratuita ed è più che sufficiente per l'analisi delle vostre strategie. Spendiamo due parole sugli sviluppatori. La strategy quant è una fintech software house che sviluppa appunto software per il trading sistematico e il machine learning e come dicono sul loro sito semplificano la vita ai trader sistematici. La loro sede principale è a Praga e hanno una sede commerciale a Hong Kong. La Quant Analyzer è solo uno dei software che sviluppano. I principali sono la strategy quant che dà il nome alla società e l'algo wizard. Si tratta di una piattaforma e di un editor per la creazione di strategie sistematiche. La Quant Analyzer che può essere intesa come uno strumento di post processing utile quindi all'analisi dei risultati delle strategie. Ed infine il Quant Data Manager che è un software per il download e la gestione dei dati storici degli strumenti finanziari per i backtest delle strategie. Di tutti questi l'unico programma che è utile al caso nostro è la Quant Analyzer in quanto tutti gli altri vengono sostituiti dai software messi a disposizione da Ducascopy ovvero la Jforex e la Visual Jforex di cui abbiamo già parlato nei video precedenti. Passiamo a questo punto a vedere come scaricare la piattaforma e ad analizzare le funzioni più interessanti. In questo video non vedremo tutte le funzioni della Quant Analyzer ma ci limiteremo a quelle più utili e soprattutto a quelle che non richiedono la licenza pagamento per il loro utilizzo. Anzitutto per scaricare la versione gratuita ci basta andare sul sito del software, cliccare su Free Version e creare un account gratuito. In questo modo potrete scaricare la Quant Analyzer e riceverete per mail la licenza da inserire per usare il programma. Una volta avviata la Quant Analyzer vi troverete nella sezione Home dalla quale potete cominciare a lavorare caricando il report del backtest che preferite generato dalla vostra piattaforma di trading. Come vedete questo software è in grado di leggere i report generati dalle principali piattaforme tra cui la Jforex dei Ducascopy, le diffusissime MetaTrader 4 e 5, Multichart, Restation, NinjaTrader e molte altre. Per caricare il report si va in alto su Load Report e si seleziona la cartella ed il file da caricare. Una volta caricato si passa automaticamente alla seconda sezione del software chiamata Analyze. Questa è la parte più importante utilizzata della Quant Analyzer. Qui trovate diverse schermate che potete selezionare con i tab in alto e la prima, Overview, vi dà una visione generale delle performance della vostra strategia. Potete infatti vedere gli indicatori di performance principali tra cui il profitto totale, il Profit Factor, il Drawdown, le percentuali di operazioni in profitto e in perdita e molte altre. Mentre sotto trovate i profitti divisi per mese su tutto l'arco temporale su cui è stata attestata la strategia. Se passiamo alla seconda schermata, List of Trades, trovate l'elenco di tutte le operazioni fatte dalla strategia che, se necessario, potete anche esportare in un file in formato CSV. Nella terza schermata vediamo finalmente l'equity generata dalla nostra strategia. Qui trovate moltissime funzionalità utili all'analisi del grafico. Per esempio potete visualizzare l'equity generata da tutte le operazioni, ma anche quella delle sue operazioni long o delle sue operazioni short. Potete visualizzare il Drawdown sia in termini assoluti che percentuali o potete inserire il grafico dello strumento finanziario su cui avete applicato la strategia per confrontarne l'andamento. Nella quarta schermata, Trade Analysis, è possibile visualizzare una moltitudine di grafici a torta o histogrammi molto utili e che ci danno informazioni impossibili da avere analizzando il report generato dalle piattaforme di trading. Nelle varie sezioni è possibile selezionare quale tipo di informazione vogliamo visualizzare e tra queste troviamo ad esempio i profitti e le perdite in base al giorno della settimana o all'ora, le percentuali di trade vincenti e perdenti, informazioni in merito al numero e alla durata dei trade. Ovviamente anche qui è possibile fare la distinzione tra operazioni solo long, solo short o entrambe. La schermata successiva è chiamata setting e non ci fornisce particolari informazioni ma ci riassume le impostazioni date ai parametri libri della nostra strategia. Questo è utile per orientarci quando abbiamo più report aperti. Infine l'ultima schermata che vediamo in questa sezione è chiamata portfolio correlation. Infatti la quant analyzer ci permette di svolgere delle analisi anche su portafogli di strategie, ovvero sui risultati ottenuti facendo lavorare più strategie contemporaneamente. Se carichiamo più report, li selezioniamo e clicchiamo su create portfolio, possiamo infatti costruire un portafoglio di strategie e calcolare la tabella delle correlazioni tra una strategia e l'altra, nonché sapere il numero dei trade sovrapposti, cioè mercato nello stesso istante, tra una strategia e l'altra. Ovviamente poi tutte le funzionalità appena viste in merito alla visualizzazione della curva dell'equity, ai grafici riassuntivi e alla schermata iniziale con le metriche principali, sono utilizzabili anche quando si parla di portafogli di strategia. Vediamo velocemente la sezione successiva equity control in quanto limitata nell'uso. Questa sezione permette di modificare l'equity della strategia inserendo dei controlli come ad esempio quello di impedire alla strategia di operare se la curva dell'equity passa sotto la sua media 20 periodi. La funzionalità è interessante ma come vedete è limitata al 30% o ai primi 200 ordini. Passiamo alla sezione Monte Carlo Analisi. Questa sezione, benché anch'essa limitata, ci permette di eseguire l'analisi Monte Carlo della strategia, per cui essendo molto interessante ne vediamo le funzionalità libere da licenza. Qui ci basta selezionare il report su cui vogliamo eseguire l'analisi, impostare il numero di simulazioni da svolgere ed il metodo tra EXAT che considera tutte le operazioni una sola volta o resampling che invece considera più volte alcune operazioni mentre altre le scarta e cliccare su run. In pochi istanti vediamo una tabella con i parametri più importanti per l'analisi delle performance della strategia ordinati in funzione del livello di confidenza. Mentre se passiamo al tab chart vediamo il vero e proprio grafico dell'analisi Monte Carlo. Gli ultimi due tab invece ci indicano il primo il rischio di rovina, mentre il secondo ci fornisce una previsione del possibile andamento dell'equity nel futuro. Per utilizzare entrambe queste funzionalità è però necessaria la licenza full. Saltiamo all'ultima sezione che vediamo in questo video e che è chiamata WTF Analysis. In questa sezione è possibile fare ulteriori interessanti analisi legate all'aspetto temporale. Infatti è possibile eliminare i trade aperti in certi giorni della settimana o in mesi specifici o addirittura in certe fasce orarie per vedere come sarebbero state le performance della strategia impostando queste limitazioni per poi eventualmente inserirle nel programma del trading system. In questa sezione è anche possibile selezionare solo le posizioni in acquisto o in vendita oppure eliminare i trade con il profitto maggiore o minore e anche considerare un numero limitato di operazioni al giorno. Abbiamo la possibilità quindi di svolgere delle analisi avanzate sulla nostra strategia con pochi clic del mouse che senza questo programma richiederebbero la scrittura di complessi programmi in Excel, MATLAB, R o altri software per il calcolo numerico e l'analisi statistica. Bene ragazzi al momento con la quanta analyzer ci fermiamo qua. Come avevo anticipato all'inizio in questo video ci siamo concentrati sulle funzionalità disponibili nella versione gratuita e quindi utilizzabili da tutti. Come avete visto questo software è davvero utile e ben fatto. Noi da quando l'abbiamo scoperto non possiamo più farne a meno e ci ha permesso di risparmiare moltissimo tempo nell'analisi dei report generati dalla piattaforma di trading. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate scoperto qualcosa di nuovo che vi permetterà di fare ulteriori passi avanti nello sviluppo delle vostre strategie. Se è così come al solito vi chiedo di lasciare un bel like qua sotto per farcelo sapere e ovviamente se avete domande o curiosità scrivetele nei commenti qua sotto e vi risponderemo. Come sempre se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi video che pubblicheremo. E con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto! Grazie! Grazie! Grazie!